Buongiorno a tutti, grazie di essere qui e non a Mortadella Bo che è l'altra conferenza dall'altra parte della strada. Esatto, dopo il mio talk potete andare tutti di là, prima state qua. Sono molto contento di essere stato invitato da Mario e da Ivette perché è Kimbo, come molti di voi sapete e spero abbiate realizzato già dalla prima edizione, è forse e senza forse il migliore evento di sicurezza in Italia e quindi insieme a loro e gli altri speaker delle passate edizioni sono molto felici di essere qua. Per quanto mi riguarda faccio cose e vedo gente in Rocket Internet, mi occupo di security, system engineering, infrastruttura in generale. Prima di Rocket, come ha detto Ivette, mi sono occupato all'interno di Red Hat della parte di system engineering e consulting, all'interno di Last Minute lavoravo per l'infrastruttura di Bravo Flyvola gratis e Private Wave lavoravo per, molte persone qui dentro conoscono Fabio Pietrasanti, quindi lavoravo con Fabio su Private Wave. Che cos'è DevOps? Non fate caso a layout, versioni diverse di PowerPoint, ma... Allora, DevOps per quanto mi riguarda è un po' il nastro trasportatore che mette insieme tutti i componenti, mette insieme sviluppo, mette insieme continuous integration, mette insieme system engineering, vuole mettere insieme tutte le persone cercando il più possibile di fare responsabilità condivisa. Quindi passare dallo scaricabarile è colpa degli sviluppatori, perché per tutti i sistemisti, magari anche in sala è sempre colpa degli sviluppatori, dal punto di vista degli sviluppatori è sempre colpa dei sistemisti. Quindi DevOps è il terzo incomodo, adesso è colpa dei DevOps. E oggi vedremo un po' alcune casistiche nelle quali è davvero colpa dei DevOps. In linea di massima due dei messaggi forti che sento tutti i giorni sono funzione sviluppo, è un problema di operations adesso, perché in sviluppo sul proprio portatile andava. E l'altro problema che sento è che DevOps è diventata una delle tante buzzwords nell'IT, insieme a cloud, insieme a security se vogliamo, a volte. E quindi tutti vogliono andare a DevOps. Si fiondano sulla parola DevOps e sulla metodologia DevOps. Il problema è che per fare DevOps fatto bene servono persone e processi di un certo tipo. Chi in sala si occupa di infrastruttura, system engineering, security. Ok. Chi di sviluppo? Ok, perfetto. Quindi la metà mio dirà oggi. Ok, allora, security è ovviamente un processo all'interno di DevOps, all'interno di infrastruttura, molto importante e come vengono implementate e come vengono introdotte le vulnerabilità solitamente. Dalle cose più basilari, errori di configurazione, servizi che vengono installati, servizi che vengono misconfigurati o lasciati con le configurazioni di base. Human mistake, quindi problematiche create dalla persona in quanto tale, quindi di nuovo si ricollega la misconfiguration dei servizi, di file di configurazione, di network, di security. Missing patch, è molto bello istanziare macchine nel cloud, un po' meno bello aggiornarle, quindi oggigiorno si stanziano una quantità di macchine elevate, sia in private cloud che in public cloud, ma le patch non piacciono a nessuno. Molte persone sono pigre nel patchare, molte persone non sanno che ci sono le patch, il software online è sicuro, quindi questi sono un po' i falsi miti che voglio andare a sfatare oggi. E soprattutto ovviamente, non ultimo per importanza, ma comunque presente, coding mistake, sviluppatori alle prime armi o sviluppatori molto capaci, molto senior se vogliamo, che fanno errori di base, input validation, SQL injection, cross-site scripting e tanta altra robaccia. La mia visione di DevOps nella metà delle aziende e anche i casi che vi porto oggi sono anche casi reali all'interno delle aziende del mio gruppo, quindi niente per sentito dire, ma problematiche molto di base che abbiamo e ci scontriamo tutti i giorni. La mia idea di DevOps che mi sono fatto è dare strumenti potentissimi che sono gli strumenti di DevOps, se vogliamo, a sviluppatori, quindi dare loro il concetto di DevOps equal sudo, quindi dare sudo access, dare root access a tutti gli sviluppatori, a tutti i sistemisti che già ce l'avevano, quindi aggiunge complessità dando agli sviluppatori superpoteri. C'è questa bella vignetta, sudo make me a sandwich, ok, e quindi la mia visione di sudo e i DevOps è che comunque va calibrato un attimino quando dare superpoteri alle persone e a quali persone. Se non lo fate già vi consiglio di seguire su Twitter DevOps Board, perché è secondo me dopo l'ercio la cosa più bella di internet e DevOps Board in sé ha detto una cosa bellissima secondo me, fare errori è umano, propagare errori in tutti i server in maniera automatica è DevOps, perché configuration management, configuration deployment, CI, tu commetti un errore su una macchina automaticamente viene deployata su tutte le macchine, quindi è veramente credo la legge numero uno dell'informatica da qua ai prossimi dieci anni. Oggi andremo a vedere un paio di tematiche a cui sono molto legato, in termini affettivi perché sono un po' gli strumenti con cui lavoro tutti i giorni, dal più comune GitHub a strumenti di revisione e controllo del codice, quindi GitHub, Subversion, a strumenti di CI come Jenkins, a file di configurazione di AWS e come gestire access key, private key all'interno di un ambiente cloud, può essere Amazon ma come può essere anche Rekspace. Client provisioning tool, Puppet, Chef, ce ne sono tanti altri, Solstack Ansible, Elasticsearch, probabilmente molti di voi qua lo stanno cominciando a usare e già lo utilizzano, in memory databases vedremo Redis, del buon Salvatore Sanfilippo, oppure anche Memcache o ancora Docker, quindi andremo a vedere un po' di tematiche che se vogliamo fanno parte della... questi otto punti secondo me formano un po' la metodologia DevOps in quanto strumenti che vengono utilizzati. Partendo con GitHub, quanti utenti, quante persone qua dentro hanno un account GitHub? Ok. Quante persone sanno o quante persone usano la ricerca avanzata all'interno di GitHub, che è un po' una cosa che si faceva con Google 10-15 anni fa? La ricerca avanzata di GitHub è potentissima. La ricerca avanzata di GitHub per via di misconfigurazioni fatte a livello di repository, a livello di permessi sui repository, oppure semplicemente perché le persone vedono GitHub e pensano al loro backup personale sull'ambiente cloud, è gratis. Il problema qual è? Che se voi provate una di quelle stringhe di ricerca, extension conf, FTP server configuration, vedrete che ancora c'è gente che usa FTP e ci saranno le credenziali all'interno dei file di configurazione. Extension PAM private, riuscirete a scaricare chiavi private e certificati. Extension XLS email, ci sono persone che pubblicano su GitHub i propri dump di Outlook e li mettono lì. Quindi SQL MySQL dump. GitHub è tanto bello per fare backup automatici dei propri ambienti di produzione MySQL, Postgres o altri libri relazionali. È anche bello, GitHub è molto potente anche per cercare vulnerabilità. Banalmente cercate una funzione PHP drag replace, avrete molto probabilmente una remote code execution all'interno del codice. O infine, magari tra voi ci sono persone che si occupano di pen testing, GitHub o altri strumenti, GitLab interni o esposti su internet, sono alcuni degli strumenti che si usano per raccogliere le informazioni atte a completare poi la parte di information gathering all'interno di un pen testing o un vulnerability assessment. Quindi GitHub banalmente è uno degli strumenti insieme ai pastebin e altre cose molto potenti online che si usa per raccogliere più informazioni possibile su una persona o su un'azienda. C'è una cosa a cui sono molto affezionato su GitHub che è fare commit di codice facendo finta di essere altre persone. GitHub utilizza una, loro la chiamano feature, che è quella di scaricare le immagini da Gravatar, come molti altri servizi. Probabilmente avete un account Gravatar con la vostra immagine, qual è il problema? Con un banalissimo git config di due righe, dove ho scelto una persona a caso name equal Linux Torvalds e email la mail di Torvalds, automaticamente GitHub scaricherà da Gravatar la mail di Torvalds, la fotografia legata alla mail di Torvalds. Questo cosa fa? Che le persone banalmente si fidano delle immagini. Nessuno andrà mai a dire a Linux Torvalds che cosa è committato o nessuno andrà spesso a fare revisione del codice di Torvalds o di altre persone magari meno influenti. Il problema qual è? Che nella history dei commit banalmente voi se usate la command line di GitHub, se ci fate caso avrete semplicemente il commit ID e Linux Torvalds, quindi torvalds.linuxfoundation.org. Se usate l'interfaccia web di GitHub avete la faccia di Torvalds e quindi direte, ah che bello l'ha fatto Torvalds il commit quindi non lo guardo. Vi posso assicurare che questa è una delle problematiche più gravi per quanto riguarda inserire codice malevole all'interno di repository, che poi per via di meccanismi di continuous integration viene portato negli ambienti di produzione. Ovviamente Linux Torvalds non committerà mai all'interno del mio repo chiamato SWOG, quindi io ho chiesto a GitHub che cosa ne pensate? Si può fare qualcosa? E GitHub giustamente mi ha risposto che il problema è altrove, che questa è una feature di GitHub, quindi mostrare le immagini favorisce l'esperienza per l'utente finale. Conseguentemente i miei consigli sono quelli che poi rappresentano l'ABC della sicurezza applicata a ogni cosa. Date sempre un'occhiata al codice che ho quindi oditate sempre il codice altrui, se possibile quando ricevete pull request assicuratevi che il codice all'interno delle pull request sia buono. C'è qualcuno qua dentro che usa GitHub a livello aziendale, quindi con organization? Ok, una cosa molto importante dell'organization con i repository privati è che solitamente si tende a fare il fork di un repository perché così l'utente ci può lavorare nel proprio account, automaticamente il fork diventa privato anche se non si ha un account a pagamento. Se un giorno la persona viene licenziata o lascia l'azienda e l'amministratore dell'organization GitHub non rimuove i repository, il repository aziendale rimane all'interno dell'account dell'utente. Quindi banalmente dal pannello utente dell'organization potete rimuovere i fork nell'account della persona. Questa è una cosa che all'inizio pensavo fosse banale, ma poi mi sono accorto che c'erano persone che anche quando se ne erano andate dall'azienda ricevevano i commit e quindi fatelo sempre, cancellate sempre i fork. E una cosa banale, un'altra, GitHub supporta come tantissimi strumenti oggigiorno two-step verification, quindi token software, token hardware. Abilitatelo per tutta l'organization e avete un modo molto semplice di controllare con una chiamata API quali utenti supportano two-step verification e quali no. Un'altra cosa bellissima che ho visto è la tendenza a usare GitHub, la tendenza a usare Git come strumento di deploy. Si fa Git clone all'interno di una document root nel vostro server Apache o Nginx e automaticamente avete il codice sorgente all'interno della document root e avete il sito online. Il problema qual è? È che molte persone, anche all'interno nella mia azienda, non sanno la differenza tra esportare un repository e clonarlo. Di conseguenza le cose che ho visto in questi anni sono che quando il .git, che è la cartella che viene creata clonando un repository, rimane all'interno della document root, tu a tua volta puoi clonarti i repository. All'inizio pensavo che fosse solo un problema nella mia azienda, poi ho cercato con una banale stringa su Google, .git intitle index of, e in questo momento banalmente se voi andate su Google e digitate quella stringa, potete clonarvi 219.000 siti. Quindi 219.000 siti hanno il codice sorgente online, 219.000 siti hanno probabilmente qualcosa di questo, codice sorgente, file di configurazioni, chiavi, certificati SSL, backup, quindi c'è veramente un po' di tutto. In aggiunta a questo il problema è la history, spesso. Spesso ho visto committare codice e poi dire, ops, cosa ho fatto? Viene fatto un nuovo commit, viene rimosso il codice diciamo non malevolo, ma il codice che non doveva essere in quel repository, dimenticando tuttavia che il codice rimane nella history, le modifiche rimangono nella history. Ci sono metodi con tagliare a un determinato commit, fare rebase, pulire un po' la history, ma spessissimo vulnerabilità di sicurezza vengono fixate o informazioni sensibili vengono rimosse, rimanendo nella history. Quindi date sempre un'occhiata alla vostra history git. Poi archivi, backup, session generation keys, c'è sempre un po' di tutto online. Clonare un repository è molto semplice, vedo molte persone disattivare directory index, ma questa non è la soluzione perché se tu disattivi directory index, se accedi via web a .git ovviamente ti dice pagina legata o quantomeno contenuto non disponibile, ma qualsiasi broadforser o metasploit ad esempio, il primo check che fanno è di scaricare la .git o anche con wget potete fare la stessa cosa. Quindi questo è il metodo semplicissimo per clonare uno di questi siti di cui vi parlo. se c'è directory index off o il repository non è completo ci sono anche degli strumenti che sistemano l'object folder di git per voi. Quindi dvcs, pillage o ripper fanno praticamente ciò. Il repository ha una serie di oggetti che rappresentano lo SHA-1 di ogni file. Conoscendo semplicemente tutti gli SHA-1 dei file, ma anche se il repository è incompleto e non avete i veri file, se lo SHA-1 è all'interno dell'object folder voi potete banalmente scaricare il contenuto del file facendo gitcat file-p e passare lo SHA-1. Col primo comando scaricate l'intero tree del vostro repository. Spesso succede se il web server è misconfigurato e avete solo accesso al .git, ma non ai veri file. Quindi voi scaricate il .git slash objects. All'interno dell'object ci sono tutti i file che possono essere banalmente letti con una linea di comando. Subversion uguale. 1.6 usava file.entries. All'interno di ogni file.entries non c'è altro che l'intero contenuto del file. Un modulo semplicissimo di metasploit visualizza tutti i file all'interno di una directory e ve ne mostro il contenuto. Con 1.7 hanno pensato bene di aggiungere SQLite perché per loro SQLite significava security. Il problema è stato questo, che SQLite comunque crea un database e con una semplice riga, non proprio semplice ma comunque con una riga che non cambia mai, è possibile tirare fuori dal database SQLite il nome del file, l'hash e successivamente leggerlo allo stesso modo. Quindi aggiungere SQLite faceva sì di aggiungere flessibilità e non avere più dei file locali sul file system. Tuttavia, essendo in possesso del database è molto semplice fare la stessa cosa. chi di voi utilizza strumenti di continuous integration tipo Jenkins? Jenkins è lo strumento penso che io odio di più perché Jenkins come potete vedere è molto seguito e molto sviluppato all'interno della community, è molto attivo come progetto, ha una serie di security advisory che di per sé non è una cosa cattiva, anzi tutt'altro. Il codice viene costantemente oditato sia esternamente che internamente, vengono applicate patches, il problema è che è uno strumento potentissimo. Immaginate Jenkins come appunto uno strumento di continuous integration che ha accesso alle vostre macchine, quindi ha un set di credenziali caricate sull'istanza Jenkins. Considerate Jenkins come una macchina capace di fare, di eseguire codice da remoto, perché Jenkins esegue sulla macchina host o sui vari agenti su cui si lega codice. Il problema di Jenkins qual è appunto? Che c'è Shodan che è uno dei database online che scansiona internet, raccoglie informazioni su tutti gli IP esposti su internet, quali porte aperte, fa fingerprinting, quindi vi fornisce versioni, informazioni anche come se ci sono dei VNC aperti e vi mostra che cosa stanno guardando in quel momento su quel desktop. e una cosa molto interessante di Jenkins è che, scusate, di Shodan è che aggrega anche gli headers. Cercando banalmente gli headers che è quello di Jenkins, tipo Hex Hudson, potete vedere come io ho tirato fuori circa qualche migliaio di istanze Jenkins esposte su internet. Questo cosa comporta? Qualche migliaio di istanze su internet di Jenkins comporta che nell'ipotesi migliore ci sarà autenticazione davanti, nell'ipotesi più realistica non ci sarà mai niente davanti. Ci sono anche qui dei moduli su Metasploit per fare enumeration di Jenkins, quindi vi raccoglie le informazioni sull'istanza Jenkins guardando gli header e guardando quanto più il codice HTML e vi fornisce sistema operativo, versione, plugin installati. Un metodo molto interessante è usare la Groovy Script Console. Jenkins è uno strumento scritto in Java, utilizza Groovy come backhender e la Groovy Console è una console sia testuale che grafica per eseguire codice. Ci sono due modi per abusare di questa Groovy Console. Il primo è di scrivere un codice veramente complesso o quantomeno di più righe come quello della prima immagine, quindi definito un processo che è il comando da eseguire o a noi all'atto pratico, perché dobbiamo eseguire codice da un'interfaccia molto scomoda web? A noi in realtà interessa semplicemente, sappiamo per certo facendo una scansione che l'IP ha SSH aperta ad esempio, possiamo semplicemente visualizzare la chiave privata dell'utente Jenkins. Ah, spesso Jenkins viene lanciato come root, questo è ancora peggio perché quindi poi siete direttamente root sulla macchina, ma tenendo in considerazione che l'utente Jenkins, nel mio caso è l'utente Batman, io con quella riga semplicemente mi limito a visualizzare la chiave SSH dell'utente. Facendo ciò ho la chiave SSH e il passo successivo è collegarmi con quella chiave alla macchina e da lì eventualmente escalare di privilegio. Un'altra cosa molto importante di Jenkins se non viene utilizzata l'autenticazione, premetto Jenkins supporta LDAP, SAML o qualsiasi altro tipo di layer di autenticazione tipo anche Google o Out, ma spesso viene lasciato con l'utente guest guest. Quindi le problematiche sono sempre quelle, credenziali di default, no authentication e uno dei problemi è anche che se potete vedere tutti i jobs su Jenkins potete vedere il workspace che contengono il codice sorgente. Di conseguenza di nuovo avete accesso a tutto il codice sorgente del vostro progetto e conseguentemente tutte le persone online hanno accesso al vostro codice. AWS è uguale, mi sono sentito dire che le chiavi di AWS, che è Amazon, quindi uno dei più grandi cloud provider, sono sicure perché sono archiviate all'interno della vostra home con un file con un puntino davanti e mi sono sentito dire che il puntino davanti significa il file è sicuro, il file è cifrato. In realtà il file è solo nascosto all'interno della vostra document root, solitamente si chiama AWS slash config o AWS config e la chiave è palesemente in chiaro, come vedete le due ultime righe, access key ID, secret access key e voi avete accesso completo alle istanze Amazon. All'atto pratico questo ha comportato persone che si sono trovate account Amazon con 7-10 mila euro di potenza computazionale usata da pagare, semplicemente perché persone facevano mining di bitcoin o altre valute utilizzando le loro macchine. È pubblico, usiamole. E conseguentemente io vi consiglio una grande cosa, Amazon supporta livelli di autenticazione e livelli di autorizzazione, quindi la possibilità di fare ruoli limitati a determinate tecnologie o determinate azioni a livello di API. Utilizzate questo metodo e invece di utilizzare le chiavi, quelle chiavi che vedete qua banalmente sono le chiavi di root dell'account, quindi accesso illimitato a tutte le API call, usate account con privilegi limitati e ristretti a una determinata tecnologia che dovete utilizzare, ma soprattutto ogni tanto ruotate le chiavi, perché il problema è la rotation delle chiavi, nessuno ruota le chiavi perché c'è pregrizia, devo cambiare i posti e il problema è che se non ruoti le chiavi prima o poi finiscono online o prima o poi finiscono nel pc di un altro che a loro volta le mettono nel cloud, quindi diventa un po' fuori controllo la cosa. Puppet, Chef, Salt, Ansible sono strumenti potentissimi per eseguire codici e tirare le sue infrastrutture in maniera più pratica e in maniera più automatizzata. Puppet di per sé può essere usato in due modi, può essere usato con manifest stand alone se siete un po' pratici, quindi normali file di configurazione dove vengono inserite le variabili, può essere usato con un db chiave valore che è hero, ma generalmente questo db chiave valore ha le password in chiaro. Una delle funzionalità più interessanti di terze parti integrate in puppet ad esempio è la possibilità di usare file yaml che vengono citrati con chiave simmetrica, quindi le chiavi rimangono sul puppet master e on the fly viene il manifesto quando viene compilato, o meglio il catalog di puppet quando viene compilato on the fly viene decifrato e ricifrato. Se per sbaglio decidete di pubblicare la vostra infrastruttura puppet su github o su altri strumenti online o su un pastebin, la cosa bella è che questo sarà quello che l'utente vede, non vede la vostra password ma vede la stringa cifrata, quindi la chiave non è sul repository ma la chiave è semplicemente sul puppet master e limitate quantomeno la possibilità che le chiavi vengano perse. Quindi questo è come diventa un file yaml con cifrato. Chef uguale, io sono molto contento che nel 2015 c'è stata una persona che si è portata contro, tante persone si portano contro le community, ma questa persona in particolare ha detto perché non facciamo sì che se un progetto, se un servizio deve partire con le password di default lo facciamo fallire. Io credo che una delle problematiche più grandi della tecnologia in sé e dell'informatica in sé applicata al software sia che moltissime persone utilizzano la configurazione di default di un servizio. Banalmente ho visto tantissimi chef server online che è lo strumento web per controllare le ricette, così si chiamano, di chef che è un altro tool di configuration management e io credo che la colpa sia anche un po' loro perché admin username nel file di configurazione è admin, la password è scritta p-at-ss-w-0 e moltissime persone lasciano questa password, un po' per ignoranza, un po' per pigrizia e all'atto pratico poi ci troviamo con tantissime istanze online di servizi con le password di default. Chef server non è da meno, utilizza veramente delle credenziali facili ed è molto potente perché potete accedere a tutto il codice, a tutte le ricette all'interno dei repository. Anche qui come puppet Chef ha pensato bene di fare dei chiamati data bags, questi data bags sono cifrati con chiave simmetrica o con password e anche lì potete usare knife che è il loro strumento di deployment, è il loro strumento di automazione e potete cifrare i data bag e far sì che se il data bag viene pubblicato le informazioni all'interno di esser sono quantomeno sotto controllo. Chi utilizza Vagrant per fare il deploy di macchine o la utilizza solo uno? Due, tre? Ok. Vagrant è bellissimo, credo che Vagrant insieme a Docker abbia rivoluzionato o stia rivoluzionando un po' le modalità con cui noi istanziamo macchine e le modalità con cui noi testiamo in generale il software o le infrastrutture. È molto facile tirare su un'infrastruttura su Vagrant, oggigiorno con plugin di terze parti o plugin ufficiali si possono caricare in stanze e infrastrutture Amazon direttamente nel cloud, ci sono un sacco di plugin per Amazon, DigitalOcean e così via. Un problema di Vagrant è che fino alla versione 1.7, le chiavi di Vagrant, le chiavi SSH di Vagrant erano, una volta che veniva generata una macchina, Vagrant non faceva alcunché per rigenerare lo ski. Questo ha comportato che scansionandolo in internet ci sono state, ci sono ancora oggi una quantità di macchine con la stessa chiave SSH. Allora, partiamo con una premessa. Il key pair generato dagli sviluppatori di Vagrant è pubblicato su GitHub. Quindi chiave private e chiave pubblica delle macchine Vagrant fino alla 1.7 e dei template di default sono pubblicate su GitHub. Il problema qual è? È che fino alla 1.7 all'avvio delle macchine non veniva rigenerata lo ski e di conseguenza di chiave rimanevano le stesse. Quindi se voi fate una semplicissima scansione di una classe, questa è una 24, semplicemente una 24 all'interno di un'azienda e potete vedere che la chiave privata ha lo stesso fingerprint. Quindi tutte queste macchine Vagrant di persone diverse avevano la stessa chiave SSH. Scaricando il key pair online ovviamente voi potete collegarvi e questo cosa ha comportato? Che dalla 1.8 in poi Vagrant quando in stanza è una macchina rigenera lo ski e poi vi fa partire la macchina. Quindi non c'è possibilità che le vostre chiavi lasciate all'interno del template funzionino. Un altro dei problemi di Vagrant appunto è che per facilitare l'utente, in generale lo sviluppatore di per sé, le credenziali sono molto semplici. Root Vagrant, Vagrant Vagrant e sudo senza password. Quindi immaginatevi queste macchine esposte su internet con Vagrant Vagrant, root Vagrant e sudo senza password. Avete a disposizione una quantità di macchine di altre persone per fare i vostri porci comodi. Un'altra cosa un po' consentitemi di dirlo bastarda da fare con Vagrant è moltissime persone utilizzano Vagrant per sviluppare il proprio codice. Quindi usano ad esempio VirtualBox con le cartelle condivise, esportano la cartella in uno specifico mount point all'interno del guest, se vogliamo chiamarlo così, e se voi banalmente modificate il .git, quindi una persona all'interno dello shared folder scarica il codice esargente, viene creata una cartella .git. Se voi all'interno di un post commit, quindi un'operazione che viene fatta a ogni commit, ci mettete ad esempio un echo della vostra chiave e conseguentemente un appender all'interno dell'authorized keys, vedrete che ogni volta che l'utente fa un commit, a prescindere che la macchina venga restanziata o meno, voi avete sempre accesso alla sua macchina. Noi abbiamo fatto questa attività in un test e lo scopo era proprio quello di garantirci l'accesso ogni qualvolta che la macchina viene distrutta. Abbiamo notato che le persone prendevano questo shared folder a un mount point tipo nfs, lo montavano nella propria macchina e il codice era già là, quindi abbiamo modificato semplicemente il post commit per aggiungerci sempre l'accesso. Molte persone probabilmente qua dentro sono all'alto Debian, alcune sono state esposte a macchine Red Hat, CentOS e lo stesso problema delle password e della visualizzazione delle stesse avviene nei file di kickstart, che sono i file con cui le macchine vengono sono istanziate e installate all'interno di un'infrastruttura via pixe, via cd, via usb key, ci sono tante modalità di installazione e anche nei kickstart voi potete mettere o l'hash cifrato, quindi encrypted hash se vogliamo l'hash cifrato della password o la password in chiaro. Anche qui su github, su google stesso ci sono una quantità di kickstart con le password delle varie persone, quindi aggiungete a questo il fatto che le loro macchine sono esposte su internet e avete anche le loro password di root. Quindi in generale il mio consiglio è quando usate i file kickstart usate sempre l'hash, non pensate che l'hash sia sicurezza 100%, oggigiorno la potenza computazionale sia gpu che cpu per cliccare hash è abbastanza a portata di mano per tutti e quindi un hash scripted con la password verrà comunque beccato. Elasticsearch è uno degli strumenti per ad esempio la mia azienda che fa siti web e e-commerce, è uno dei full text search engine che usiamo di più, permette di fare appunto ricerche full text, permette di integrare ad esempio un vostro catalogo prodotti o ancora un motore di ricerca all'interno del vostro sito. Le problematiche di elasticsearch sono diverse, by default elasticsearch come memcache, radius e altri strumenti ascoltano su tutte le interfacce, quindi quando elasticsearch viene stanziato di nuovo solitamente viene avviato su tutte le interfacce della vostra macchina, quindi molto probabilmente se avete un impi pubblico e nessun firewall davanti la macchina finirà online, elasticsearch finirà online e è molto semplice fare operazioni con elasticsearch perché di per sé tranne un plugin commerciale non c'è authentication, adesso c'è un progetto su github che vuole portare l'autenticazione all'interno di elasticsearch ma di per sé elasticsearch non ha username e password, tu fai direttamente le chiamate e lui ti risponde, tu fai delle chiamate tipo delle put request per aggiornare i dati e lui ti risponde con del json. Il problema qual'è? È che a vostra volta voi potete fare una ricerca all'interno di elasticsearch e caricare un malware sulla macchina. Adesso è un po' scritto piccolo il codice ma se vedete l'exec, get runtime exec, vedete che io ho scaricato un malware all'interno di TMP semplicemente facendo una ricerca dall'interfaccia web di elasticsearch. Elasticsearch ti limiterà a eseguire la ricerca per me, eseguire quel TMP malware, conseguentemente io avrò probabilmente un rootkit sulla macchina o una reverse backshell o ancora meglio qualsiasi cosa voi potete pensare out of mind. Quindi il problema qual'è? Che fino alla versione 1.3 la sandbox consentiva qualsiasi tipo di comando e, scusate, fino alla versione 1.2. Dalla versione 1.3 la sandbox è stata limitata, le funzioni che potete fare e la parte di file system a cui potete accedere è decisamente limitata e di default il file di configurazione disabilita questa funzionalità, quindi non è possibile più eseguire codice o operazioni dinamiche all'interno delle ricerche elasticsearch. Il mio consiglio ovviamente è sempre quello, non esponete più del dovuto ai vostri servizi perché poi alla fine parliamo tanto di security ma i problemi sono sempre quelli da vent'anni probabilmente e una delle problematiche appunto è istanziare macchine così a caso e pubblicarle su internet. Qui ancora un'altra query di ricerca per leggere all'interno di Tc, se siete fortunati Elasticsearch gira con utente non root o non con super permessi quindi può leggere probabilmente i tc host, i tc passfd, ma ho visto anche delle istanze Elasticsearch per girare come root e quindi anche tc shadow. Redis è uguale. Key value store, quindi la possibilità di mettere chiare valore all'interno del vostro db non relazionale, tutto in memoria spesso, no cifratura, no credentials, una porta tc in ascolto e tutte le interfacce. Qual è il problema? Anche qui le versioni di Redis e le macchine esposte con Redis aperte possono essere visualizzate via Shodan, via Google, semplicemente cercando Redis version e poi 2.8 qualcosa o 2.6 qualcosa. Il problema è questo, le persone hanno deciso che vogliono mettere di tutto all'interno di database non relazionali. Ci sono persone che stanno portando i db non relazionali ad avere delle relazioni o a usare i db relazionali come database dove archiviare tutto perché fa più figo, perché è più semplice da usare e se guardate quel database, è un database clienti di un'azienda e c'è l'utente e la password, la password è super sicura ovviamente in MD5 perché usare Bcrypto o altri meccanismi di hashing non gli piacevano e la parte sopra è, l'immagine sopra è sessioni utente all'interno di un e-commerce, quindi tutti i cookie di tutti i clienti sono all'interno di questa istanza Redis. Queste sono macchine che ho trovato online e potete fare sessione jacking, potete fare un po' di cose belline. Persone hanno messo addirittura credenziali password all'interno delle chiavi, quindi utilizzano Redis come unico contenitore per gestire problematiche e se vogliamo parti di codice che non dovrebbero stare lì. Altre cose belline se siete un po' annoiati che potete fare con Redis è appunto svuotare tutte le chiavi all'interno di un database o di un keyspace, Redis funziona a livello di keyspace, potete svuotare un keyspace, o c'è una persona secondo me molto annoiata dalla vita che ha fatto shakrak, quindi prende tutte le instanze Redis pubblicate su internet aperte e le utilizza per fare il cracking di password. Redis è scritto, ha un binding in lua molto potente, quindi viene utilizzato lua per fare tutta la parte di computazione di hash e successivamente i risultati vengono aggregati e mandati o su un server o via mail, ed è bellino perché è molto facile eseguire tramite IVA lo script load il codice malevole. Memcache uguale, non mi soffermo, valgono gli stessi problemi di Redis, con l'unica aggiunta che questa volta cercando instanze memcache aperte e guardando all'interno delle chiavi ho trovato cose di cui non pensavo fosse possibile utilizzare, tipo certificati SSL o chiavi SSH all'interno di chiavi e c'è uno strumento, non posso fare nomi, ma simile al Cpanel o Plesk, uno di quelli, che utilizza la password in chiave all'interno di una chiave, perché l'intero keyspace config ha tutte le password e quindi stiamo spostando il problema da database esposti a qualsiasi strumento esposto, ma il problema in sé rimane. E infine c'è una cosa bellissima con Docker che volevo mostrarvi, che è... Docker è uno strumento molto potente per fare container, quindi container applicativi, istanziare macchine Linux al fine di eseguire container, testare il vostro codice e distruggere il container, oppure lanciare container in produzione. Ovviamente la funzionalità di Docker è che è un client che si connetta a un demone che legge un socket. Il problema che ho visto è che molte persone montano all'interno dell'host, montano la directory dell'host contenente il socket di Docker. Se voi montate all'interno del guest il socket di Docker dell'host, potete uscire dal guest e andare direttamente sulla macchina, se vogliamo chiamarlo, sulla macchina host. Per farvi capire meglio, questo è come viene istanziato l'immagine Docker, quindi io monto var run docker sock all'interno di var run docker sock del mio guest, ma potrei anche fare var semplicemente. Perché questo? Spesso si monta varlib mysql, varlib postgres sql. Quindi l'idea di fondo è che io mi monto una cartella all'interno del container, ma se questo container ha accesso al socket dell'host, quello che succede è veramente brutto e ve lo voglio mostrare anche se ho solo un minuto. Quindi banalmente adesso istanzieremo un container da questa macchina host, e monteremo, come ho detto prima, il socket di docker all'interno della macchina del nuovo container. Siamo all'interno del container, controlliamo i premessi, non abbiamo accesso all'host in alcun modo, siamo veramente limitati al container, decido di installare nel container docker, voi vi chiederete ma perché installi docker dentro docker? Adesso vedrete perché. Se io installo docker nel container, qui adesso ho velocizzato un po', prometto, e installando docker nel container quello che succede è una cosa veramente brutta. quindi abbiamo docker nel container e decidiamo dal container che chiamiamo container 1, distanziare un altro container, ma prima montiamo una directory all'interno del primo container, che è la directory host. Ora facciamo un ch-route all'interno dell'host. Vediamo i processi della macchina host dal nostro container, che non dovrebbe succedere perché una delle chiavi dello sviluppo con docker è appunto che il tuo accesso è limitato al container. Decido quindi di aggiungermi all'interno della macchina host una volta che ho accesso una chiave ssh, perché voi avete accesso root, dato il socket, il processo di docker gira come root, quindi il file di socket è con permessi root, docker, e l'accesso alla macchina per voi è root. Quindi una volta che ho accesso all'host, decido di mettere la chiave e sono root nell'host. Quindi questo è un modo semplicissimo, è addetto ai sviluppatori di docker una feature, per uscire dal concetto di sandboxing, quindi dal concetto di isolamento di un ambiente docker. Potete fare moltissime cose poi dal vostro container, potete eseguire comandi, modificare file all'interno dell'host, potete se volete spegnere la macchina, quindi riavviarla con un altro sistema, un'altra infrastruttura, avviarla con altri privilegi, con altri permessi, potete fare veramente di tutto. Questo è il vaglio adesso in un bug report. Nella comunità open source il bello è che i bug report arrivano facilmente a 650 commenti senza poi prendere neanche una decisione. Questo credo sia 680, quindi il nuovo record, e forse un giorno si avrà una soluzione anche a questo. Io ho finito, vi ringrazio. Grazie. 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 Grazie.